Torna a Bari dal 13 ottobre al 10 dicembre per il decimo anno consecutivo la World Press Photo Exhibition, nella magnifica cornice del Teatro Margherita. Da stasera si aprono le danze per la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo. L'esposizione, organizzata da Cime, che contra oltre 60.000 fotografie scattate da 3.752 fotografi, quest'anno si arricchisce di una seconda rassegna dal titolo Iconic Images, una selezione di scatti che vanno dal 1955 al 2023. L'evento è diventato un classico dell'autunno barese, occasione che inorgoglisce il capoluogo di regione. Presente alla conferenza stampa inaugurale, il fotografo Simone Tramonte, vincitore regionale per area geografica dell'Europa per la categoria Long Term Project, con l'opera dal titolo Net Zero Transition. Il messaggio che io volevo dare era un messaggio di speranza su un tema che spesso i media ci fanno vedere dal punto di vista delle cause, degli effetti della crisi climatica. È bene che se ne parli, è bene che le persone iniziano anche a vedere cosa si sta facendo per combatterlo, quindi come l'Europa sta pensando di traghettare verso il Green Deal, verso questo obiettivo che si è prefissata.